ciao a tutti e benvenuti nel mio canale oggi mi sono arrivati quattro prodotti della wish che vi voglio far vedere e mostrare e condividere con voi non avevo mai comprato dalla wish prodotti di abbigliamento ho voluto provare e devo dire che sì non è male allora cominciamo con il primo pezzo il primo pezzo è questo reggiseno io andando in palestra ho bisogno sempre di reggiseni un po contenitivi perché salti perché balli e questo devo dire che è molto molto ottimo perché quando hai finito che sei sudata che non riesci a toglierlo toglierlo che lo devi spiare invece questa la cerniera si toglie subito ed è molto molto pratico praticamente lo puoi fare anche da top non solo da reggiseno poi ho voluto trovare a vedere e ho comprato questa a tutti questi prodotti non ricordo bene il prezzo però ho pagato 15 euro tutto che adesso vi devo far vedere questo mi sembra che l'ho pagato sui 4 euro 3,50 euro 4 euro questa a 6 euro questa a 6 euro è una camicetta ha i bottoncini ha i bottoncini dietro così è questo colore sta molto ben indossata è sottile è un peso una camicetta sottile quindi proprio inverno inverno devi metterci qualcosa sopra in primavera puoi uscire anche solo con la camicetta è fatta in questo modo dietro più lunga e davanti più corta buongiorno è entrato qualcuno è uscito è entrato in cucina ha visto che stavo registrando è scappato è uscito va bene e ci va anche questo quindi questa ho preso anche questa poi quel colore di questa non è che mi piace molto perché pensavo che questo è un rosso un po' più spento invece questo è proprio un rosso molto molto acceso è fatta sempre corta davanti lunga dietro ha le maniche che vengono giù così è tagliato un po' in un modo un po' strano un po' particolare e mi sta anche bene però non so se metterò questo colore dato mio consiglio mi sembra tanto accesa però ma o la regalo comunque non è male carina anche questo la proverò devo ancora provarla poi c'era questa non l'ho capita praticamente ve l'hanno regalata questo pennello di contouring praticamente non ho guardato niente questo era in regalo ma c'è non è che hai il regalo con questo c'era un regalo vabbè l'ho preso questo lo già ho provato a usare e va bene e quindi direi che come acquisti sono andati bene è ottimo quindi il pennello questa camicia questa camicia questa qui anche questa più il reggiseno totale 15 euro non mi sembra tanto anzi e devo dire che va bene ok Luish con questo concluso vi do l'appuntamento al prossimo video e grazie di essere stata di essere stati con me spero di avervi tenuto un po' di compagnia vi saluto vi mando un grosso bacio e un grosso abbraccio ciao